è cominciato il mese e mi sembra giusto mostrarvi la mia tbr di aprile e i libri quindi che ho intenzione di leggere per questo mese che è appena iniziato prima però vorrei mostrarvi come è andato il mese appena trascorso che è pieno di note dolenti e cominciamo proprio da queste allora io avevo intenzione di leggere una passeggiata nei boschi e avevo cominciato in effetti ho letto le prime credo 20 pagine mi stava anche piacendo però purtroppo la lettura è stata scavalcata da tutta una serie di altre incombenze letterarie e quindi ho dovuto lasciarla indietro comunque sicuramente è un libro che riprenderò lo trovavo molto divertente e quindi per ora la mia piccola impressione era buona per quanto riguarda altri due libri invece cartacei che avevo messo in lista ma sapevo che avrei avuto delle difficoltà picnic sul ghiaccio di curo non sono riuscita a leggerlo come avete visto ho letto un altro libro per tutta l'italia legge indipendente e anche emi e isabel è rimasto in tonso ancora purtroppo visto che sono tanti anni che l'ho comprato speravo che arrivasse finalmente il suo momento ma ancora no e credo che nemmeno aprile sarà il suo momento vediamo invece i libri che sono riuscita a leggere qui non vedete un libro perché ce l'ho in ebook ve ne ha parlato l'editore nella mia intervista che ho fatto per il book pride si tratta di persone care di veragiaconi l'ho trovato in super offerta sul cobo store a 2 euro 99 non me lo sono lasciato sfuggire è una bellissima raccolta di racconti che vi consiglio assolutamente e che mi è piaciuta moltissimo ve ne parlerò poi in libri letti veramente a proposito di raccolte di racconti ho scaricato l'anteprima di cat person di cui si parla tantissimo e ho anche letto il racconto cat person in lingua originale che è disponibile sul sito del new yorker quindi se leggete un inglese abbastanza normale perché non è difficilissimo anche quello lo potete leggere e ho sono in lista per magari scaricare dalla libreria del comune il resto della raccolta di racconti ma non ho avuto tutta questa urgenza di andare avanti di comprarmela per conto mio o di leggerla comunque perché mi stava piacendo tantissimo non è una cattiva raccolta però secondo me l'hype che ha ricevuto che sta ricevendo è eccessivo e in più per quanto siano dei buoni racconti io non ci trovo tutta questa novità che invece tanti altri sembrano trovare cioè io ho visto dei gran già visto in questa raccolta comunque per tornare ai buoni propositi di questo mese la felicità di emma che era appunto nella lista è stato letto e anche già recensito trovate vi lascio la recensione qui su nell'info box per booktube italia legge indipendente quindi proprio ieri se l'avete vista se no è un librino comunque spiritoso gradevole e consigliato finalmente feste stappi di champagne finiti i miserabili qua vedete solo il secondo dei due volumi sapete bene che c'è un altro tomone anche che è stato letto in precedenza devo dire che questa lettura ha risentito del fatto che è così lunga che me la sono trascinata per tre mesi è un bellissimo romanzo ma secondo me è troppo lungo e io ho faticato a un certo punto nonostante fosse molto bello e in certi punti scorresse veramente bene in altri ho arrancato saltato e avrei tagliato se fossi l'editor di oggi taglierei un libro che avevo intenzione di leggere per un gruppo di lettura che finalmente è sceso dallo scaffale dove stava da tantissimi anni che mi ero già ripromessa di leggere addirittura l'anno scorso prima di andare in israele è la simmetria dei desideri di nevo mi è piaciuto moltissimo mi ha ricordato tantissimo i giardini di haifa dei bai appunto per questo cioè questo è stato ancora un valore aggiunto in più rispetto alla alla lettura in sé che è comunque quella di un bellissimo libro ve ne parlerò nel prossimo libri letti veramente comunque è una lettura consigliata e sono stata felice finalmente di averla fatta nel gruppo di lettura non tutti erano entusiasti però questo invece sono stata molto contenta di averlo letto nostalgia secondo me è più bello però prima o poi arriverà invece anche il momento di tre piani di cui mi hanno detto sempre meraviglie l'ultimo libro che sono riuscita a leggere in questo mese di di marzo anche questo era per un gruppo di lettura è il circo della notte di eril morgan morgan stern si mi dimentico sempre il suo nome e allora il libro di per sé non mi è piaciuto tanto crea un mondo meraviglioso però per il resto mi sembra che abbia la carenza di tutti quei punti di cui vi avevo parlato la settimana scorsa in cosa deve avere un libro per piacermi questo secondo me manca di tutti i cinque punti che vi avevo elencato tuttavia vi parlerò vorrei fare un libro in cinque minuti dedicato a questo per dirvi perché non mi è piaciuto e magari confrontare le vostre le mie opinioni con le vostre e anche con quelle di persone a cui è piaciuto tipo nadia la lettrice solitaria che invece ha fatto una recensione positiva queste erano le letture più o meno riuscite del mese di marzo invece veniamo alle letture del mese di aprile andrò avanti ovviamente nell'ascolto della macchia umana finalmente ho scavallato anche l'ultimo terzo devo dire che sono ad un momento in cui non ce la faccio più perché secondo me anche qua rot ha esagerato secondo me alcuni punti li poteva tagliare ma anche qui ne parleremo quando il libro sarà finito l'ascolto sarà terminato e dopo di che io credo che passerò all'ascolto di podcast o di racconti perché il fatto che fosse così lungo secondo me mi ha fatto apprezzare meno l'ascolto tuttavia è letto benissimo e continuo a trovarlo comunque un'opera straordinaria per quanto riguarda sempre i libri immateriali leggerò bugiardi e innamorati di yates perché è ripreso il progetto pezzi d'autore che facciamo in collaborazione con martina del canale ima in the books sono già usciti i primi video la settimana scorsa è uscito quello di melania costantino e quindi andate a cercarlo se vi interessa yates proseguiremo nelle prossime settimane appunto io ho deciso di leggere questa raccolta di racconti sarà il mio quarto yates sono sicura che non mi deluderà per quanto riguarda i libri cartacei qui abbiamo la solita bella pigna chiaramente non garantisco di leggerli tutti però vediamo che cosa si riesce a fare e soprattutto magari pescherò di qua e di là vorrei cominciare soprattutto da due libri che mi sono stati omaggiati al book pride il primo è per elisa della sabo che mi è stato regalato dall'editore l'anfora e che appunto vorrei leggere anche perché l'editrice ne ha parlato in maniera entusiastica nell'intervista che le ho fatto a book pride perciò sono abbastanza curiosa di leggere questo libro ma prima di quello di questo che ha una certa mole vorrei scimentarmi con una lettura breve perché non ce la faccio più dopo aver letto tutti questi tomoni e di cui qua c'è un altro tomone che è stato iniziato e lo vedrete tra poco vorrei leggere finalmente un libro sottile non si uccidono così anche i cavalli di mccoy che anche questo mi è stato omaggiato dall'editore al book pride ringrazio la sur quindi questi due vorrei leggerli ad aprile per ringraziare appunto gli editori dei regali che mi hanno fatto per poi parlarvene ovviamente al più presto abbiamo qui un altro libro breve che invece è il libro breve insomma meglio diciamo benevolenza cosmica è una nuova uscita e se ne sta parlando parecchio si vede in giro tantissimo anche su instagram è una nuova uscita che è quello che leggeremo per il gruppo di lettura dei russi del tavolo dei russi incolti della libreria ellis book di via lausanna infatti se ce l'avete se siete in zona sarebbe carino se voleste partecipare al gruppo di lettura il abbiamo deciso di virare ad un super contemporaneo dopo aver letto i miserabili giusto per fare un po di alternanza di solito quello è un gruppo di lettura di romanzi classici però abbiamo deciso di uscire un po dal seminato qualche volta si può fare mi sembra corretto e quindi è stato votato proprio un'ultimissima uscita so che se ne sta parlando anche molto bene quindi sono curiosa di leggerlo e ne ho anche acquistata una copia da regalare quindi spero di non aver toppato fatemi sapere se lo avete letto se lo state leggendo e che cosa ne pensate a proposito di tomoni vorrei andare avanti con un libro che finalmente ho cominciato anche se sono abbastanza indietro si tratta di non dite che non abbiamo niente il libro che siete già stufi di vedere per fortuna una bella copertina quindi almeno va la pena di vedere la copertina l'ho iniziato sono proprio a pagina 70 per cui è veramente presto per darvi un'opinione completa del romanzo tuttavia promette molto bene una cosa che mi sta piacendo molto di questo libro è che appunto la protagonista è cinese e vive in canada per adesso è una bambina e ha dimenticato quasi tutta la sua lingua madre comunque i suoi genitori l'hanno insegnata poco tuttavia ha fatto un corso di calligrafia e c'è un grande rimando tra l'inglese che lei parla come prima lingua e il cinese e anche il cinese come si è evoluto dopo la rivoluzione culturale ed è stato semplificato quindi qua e là adesso apro una pagina a caso sperando di trovarne qualcuno ci sono gli ideogrammi ecco qua per esempio non so cosa riuscite a vedere però in fondo alla pagina come vedete ci sono degli ideogrammi che rappresentano lo stesso concetto scritto in cinese e che è costituito dall'unione di più concetti per cui anche questo è una grande metafora dei significati tra le varie lingue secondo me promette molto bene appunto come vi dicevo per adesso ci sono presenti flashback storie che vanno avanti e indietro e che scavano in un passato quasi fiabesco anche se in realtà veramente drammatico e non vedo l'ora di vedere come prosegue qui accanto a me ho altri due libri due libri che tra l'altro hanno una discreta mole proprio come questo che diventerà il mio libro da comodino gli altri saranno tutti libri che porterò in giro in tram anche ovviamente l'ebook invece qui oltre a questo ci sono altri due libri che si prospettano essere dei libri da comodino non so se ce la farò però aprile è il mese in cui viene assegnato il premio pulitzer quindi qua accanto a me ho due libri che hanno vinto il premio pulitzer il primo che è quello a cui darei la precedenza è il declino dell'impero whiting questo è un libro che io ho comprato diversi anni fa non mi ricordo neanche più bene quando però avevo già aperto il canale per cui potreste ritrovarlo in qualche vecchio book haul perché ne aveva parlato molto bene uno dei miei contatti sul gruppo di americana contemporanea via nobi che adesso è diventato il gruppo piano b su goodreads ne aveva appunto parlato molto bene questo romanzo ha vinto il pulitzer nel 2002 io di solito dei pulitzer mi fido mi trovo molto bene con cioè sono dei romanzi che in genere mi piacciono e quindi sono curiosa di leggerlo purtroppo è un romanzo che si fa abbastanza fatica a trovare perché non è più stato ristampato probabilmente è stato anche pubblicizzato un po male però chi lo ha letto ne ha parlato molto bene e quindi vi sapro dire è stata tratta anche una miniserie televisiva non so nemmeno se sia arrivata in italia comunque nei mercatini dell'usato credo si trovi perché anche altre persone mi hanno detto di averlo trovato se sarà un libro di cui vale la pena magari riuscirete a ritrovarlo anche voi invece qui ho un vero e proprio pezzo da 90 che non è conosciuto proprio per aver vinto il premio pulitzer ma in realtà per aver vinto il premio nobel per la letteratura si tratta di tony morrison con amatissima che appunto vinse il premio pulitzer è un romanzo che so essere molto doloroso ma so anche essere un pilastro della letteratura americana del dell'ultimo del secondo dopoguerra e quindi che vale veramente la pena di leggere perché è una storia che parla di razzismo di rivendicazioni dei neri che è un tema purtroppo ancora molto attuale e tant'è che ci sono tantissimi romanzi adesso o anche l'attualità stessa senza andare nella fiction purtroppo ci presenta tantissimi casi in cui la discriminazione razziale non è un fatto che risale al passato e al tempo in cui gli stati uniti si dividevano in nord e sud questa è appunto la mia ambiziosissima tbr per il mese di aprile fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri che cosa ne pensate se vi sono piaciuti oppure no se avete dei consigli se ci sono dei libri che vi interessano più di altri in modo che magari li passo avanti per farvene la recensione a breve noi ci rivediamo lunedì prossimo con il prossimo video nel frattempo buona lettura a tutti